Bisogna intendersi, se sulla cima del Monte Rosa ha montato un'antenna di mille metri, forse che il Monte Rosa diventa più alto del Monte Vienco o rimane il Monte Vienco il monte più alto d'Europa? Il grattacielo più alto d'Italia è Palazzo Lombardia, nel senso che a Palazzo Lombardia si vive e si lavora e si può guardare giù il resto del mondo dall'altezza di 164 metri. Lo splendido palazzo che hanno costruito vicino è 10 metri più basso, poi ne hanno messo su un'antenna bellissima, peraltro di 80 metri. Vedo che gli esperti, a partire dall'architetto Fuxas, hanno detto con chiarezza che il grattacielo più alto rimane Palazzo Lombardia.